Ormai ogni volta che ci sono elezioni amministrative si canta la morte del cigno, si canta la morte del Movimento 5 Stelle. Non può essere questo il modo di affrontare elezioni amministrative. Lo dico a tutti quelli che oggi sperano che il Movimento 5 Stelle sia morto, invece è vivo e vegeto e combatte ancora più forte di prima. Penso che adesso per riuscire ad essere forti anche alle amministrative che non hanno niente a che vedere con le politiche dobbiamo darci un'organizzazione. Quest'organizzazione non è come si dice calata dall'alto, inizia una discussione, però inizia una discussione su dei temi ben precisi. Deve esistere un'organizzazione a livello nazionale, deve esistere un'organizzazione a livello regionale, questi sono i primi due temi su cui discuteremo con i nostri iscritti, ma anche nelle assemblee degli eletti, nelle assemblee parlamentari. Per organizzazione significa che a livello nazionale ci sono delle figure di comprovata esperienza in quel settore che possano coordinare quell'argomento per tutto il Movimento. Poi esiste un altro tema che è quello dei nostri consiglieri comunali. Non si può pensare che essere consigliere comunale sia un privilegio oggi. E allora possiamo discutere di nuove regole per i consiglieri comunali. Ad esempio che dal secondo mandato si possa pensare che non valga quello come secondo mandato, che possano anche con la loro esperienza pensare di candidarsi in Parlamento, in Europarlamento, al Consiglio regionale. Quando io penso al dibattito sulle liste civiche che dobbiamo affrontare, la prima cosa che mi viene in mente è che non dobbiamo assolutamente pensare alle liste civiche che ci fabbrichiamo noi, perché quello è quello che sta succedendo e che è successo anche in questi giorni in Sardegna, che è successo in tutte le elezioni regionali e amministrative di questi anni. In Sardegna eravamo 60 contro 1300. Noi però nei prossimi mesi possiamo lavorare anche ad un dialogo invece con vere liste civiche, ma in maniera sperimentale, con calma. Io non voglio assolutamente avviare questa discussione dicendo che tutto si fa tra un giorno. Tutti questi temi fanno parte non di una nuova anima del movimento, perché l'anima del movimento resta la stessa, è solo che il movimento al governo cresce, diventa ancora più adulto e ha la possibilità di innovarsi ancora di più per fare una cosa, rispondere alle esigenze dei cittadini. Noi siamo venuti, veniamo da anni in cui i cittadini ci sostenevano per andare al governo, adesso ci hanno mandato al governo per risolvere i problemi. Ovviamente la differenza tra noi e un partito non sta nell'organizzazione, ma sta nel fatto che anche su decisioni importanti come quella della settimana scorsa non ci chiudiamo in una stanza e decidiamo in tre, ma decidiamo con tutte le migliaia di iscritti che sono iscritti al Movimento 5 Stelle.